Emma Marrone fa un viaggio nel tempo, il suo outfit è un sogno in rosa Lo stile di Emma Marrone ormai è diventato inimitabile e i suoi fan non perdono occasione per ribadirlo o nei commenti sui suoi profili social Lo cantante Salentina ha postato un giorno fa un video in cui sfoggia un look da ragazzina che la fa apparire più giovane e chic che mai, per lei un outfit semplice, ma allo stesso tempo di carattere, perfetto per valorizzare la sua personalità da vera star Emma Marrone e i suoi outfit da diva. La sua carriera nel campo della musica le sta regalando tantissimi successi e infatti Emma Marrone non perde occasione per ringraziare i suoi fan per laffetto che le dimostrano in ogni occasione La sua è tra le voci più apprezzate del panorama artistico contemporaneo, ma la cantante Salentina non è solo una pop star, la sua personalità eclettica le ha permesso di affermarsi anche nel mondo del web Icona di stile, influencer e trendsetter, Emma riesce a dare unimmagine di sé sempre dinamica e innovativa Appena un giorno fa sul suo seguitissimo profilo Instagram ha postato un video in cui esibiva un look super chic, con una leggera sfumatura anni 90, per lei un paio di jeans chiari, una felpa vintage con la scritta Forever or Never, una giacca rosa e un paio di occhiali davvero glamour I fan si sono immediatamente scatenati con una serie di commenti di approvazione e il video ha raccolto quasi 200 mila visualizzazioni, ciò che più ha colpito il pubblico è stata la sua innata semplicità Lo cantante Salentina in diverse occasioni ha condiviso i suoi outfit preferiti, i cambiamenti di hair stile e di make-up, rimanendo sempre umile, quasi la ragazza della porta accanto a cui chiedere consigli Ed è proprio in questo modo che il pubblico la vede e la percepisce, non solo una star della musica, ma una giovane donna sempre pronta ad affermare il suo stile e la sua personalità in modo originale Emma è il talento dell'originalità Fin dal suo esordio in televisione, ciò che è apparso chiaro è il fatto che Emma Marrone sia una persona sincera e determinata, capace di esprimere la sua opinione al di là dei giudizi e dei commenti altrui Il mondo dei social network più volte ha dimostrato quanto sia complesso essere popolari, sono tanti i leoni da tastiera che si fanno forti della loro invisibilità, pronti ad attaccare i personaggi del mondo della moda e dello spettacolo Anche la cantante salentina in più occasioni è stata vittima degli haters, ma ha sempre risposto, dimostrando quanto l'educazione e la tenacia possano spazzare via qualsiasi calunnia Oltre ad essere una cantante estremamente talentuosa, Emma è una donna consapevole dei propri limiti e dei propri punti di forza e non ne ha mai fatto mistero, il pubblico apprezza molto la sua genuinità e non perde occasione per seguire le sue novità in ambito lavorativo e privato Un rapporto di fiducia reciproca, coltivata con il tempo e con l'onestà ad ogni costo, Emma ha insegnato a tutti il talento dell'originalità Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS